La pizza tonda classica sta diventando sempre più popolare tra i professionisti ma veniamo all'impasto, un impasto diretto al 68% di idratazione inseriamo tutta la farina, per chilo di farina, 2 grammi di lievito, 680 grammi di acqua inseriamo la prima parte di acqua e andiamo a strutturare il nostro impasto una volta strutturato andiamo ad inserire il sale formata la prima parte dell'impasto andiamo poi a completare con l'acqua restante fino a raggiungere la consistenza e l'idratazione desiderata come in questo caso una volta completato l'impasto lo facciamo puntare a temperatura ambiente e poi andiamo a formare le palline dopo 24 ore di lievitazione, di appretto andiamo a stendere con movimenti decisi e abbastanza veloci andiamo a perfezionare la nostra pizza sulla palla la inforniamo a 370 gradi e questo è il nostro risultato